Zagor e Flash, siete pronti a credere nel crossover impossibile? Wabalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fumetti, nella rubrica Bonelli, che è quasi sempre contornata da Dylan Dog, lo sappiamo, e bentornati nella rubrica DC Comics, rubrica che nel mese di marzo ha fatto un po' da padrona anche grazie all'uscita di The Batman, in cui ho preso anche un po' la scusa per parlare un po' di prodotti DC Comics, di cui non parlo mai troppo spesso. Ormai siamo già ad aprile, però concludo la settimana che è stata parzialmente di marzo, con l'ultimo video di marzo, tra virgolette, della DC Comics, e neanche a farlo opposta, il weekend, lo sapete ormai da un po' di appuntamenti, il weekend è l'appuntamento dei crossover, ho parlato dei tre crossover tra Batman e le Tartarughe Ninja, qui parliamo del crossover tra Zagor e Flash. Flash della DC Comics e Zagor della Bonelli. Se non sapete perché c'è questo crossover adesso ve lo spiego in due minuti, ma prima di cominciare vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace, un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che ve frega di condividere il video con tutte le persone che si sentono l'uomo più veloce della Terra, e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo crossover e di questo video. Se non avete modo di reperire questo librone, che è un cartonato rigido alla modica cifra di 24€, potete recuperarlo dai miei link Amazon che trovate qui sotto, vi metto il link per acquistarlo, se lo acquistate dai miei link mi date anche una sorta di aiuto, una sovvenzioncina al canale, senza nessuna spesa per voi. Per chi non sapesse cosa è successo in casa DC Comics e in casa Bonelli, di recente hanno fatto un accordo per far parlare, per far interagire i loro personaggi di punta. Questo perché la Bonelli è la casa editrice più rinomata in Italia e la DC Comics ha cercato appunto le case editrici più rinomate per dei crossover, l'ha fatto in ogni nazione. In Italia è stato appunto... è toccato alla Bonelli e hanno deciso di far incontrare alcuni personaggi. Dylan Dogg, che è un po' il personaggio più horror e più oscuro, l'hanno fatto incontrare con Batman. Zagor, che è il personaggio... scusate, Nathan Never, che è il personaggio un po' più tecnologico, più futuristico, l'hanno fatto incontrare con la Justice League, che compone anche Cyborg. Flash, Batman, comunque dove le storie sono più a stampo fantascientifico e di minaccia globale. E Zagor, che invece è un fumetto d'avventura, dove Zagor è un simbolo per la sua comunità, è un simbolo di speranza in un certo senso per la sua comunità, più che Batman, che è un simbolo quasi di terrore dei criminali, e hanno deciso di unirlo a quello che per la DC Comics è il personaggio più colorato, nel senso anche di carattere, più speranzoso. Il personaggio che rappresenta un po' l'uomo maturo, ma anche giovane, che dà speranza alla sua comunità, tanto che la sua comunità gli ha regalato, gli ha creato un museo. Sto parlando di Flash, quindi da questo punto di vista vogliono unire i due personaggi. Se non fosse che appunto i personaggi Bonelli non sono assolutamente dei supereroi, sono personaggi ancora, passatemi il termine, mi farò molti nemici che leggono Zagor, però siamo rimasti ancora ai fumetti western, con tutto il rispetto. Insomma, quindi Zagor ha un'ambientazione tipicamente western, con la differenza, chiaro, che rispetto a Tex, che è un western classico, Zagor è un western un po' d'avventura, dove c'è anche un po' di magia, dove c'è anche un po' di fantasy, però sempre western rimane. Come si fa a unire due personaggi che hanno un'ambientazione così diversa tra loro, e un distacco temporale anche così diverso tra loro, perché lo stesso fatto che Zagor vive in quest'epoca particolare gli impedirebbe di comunicare totalmente con Flash, proprio perché molte cose non le può concepire, non le può capire. Hanno usato l'escamotage che si usa spesso per far viaggiare Flash in giro per i mondi, ovvero Flash è connesso alla forza della velocità e in qualche modo viene attirato da questo bambino che sta chiedendo appunto aiuto a Flash. Flash si organizza sulla frequenza di un monile che aveva addosso questo bambino per trovare, diciamo, la terra, le famose terre infinite, no? Per trovare la terra che abbia quella frequenza in modo da arrivarci. Ora, noi abbiamo già visto Flash nella serie tv della CW, l'abbiamo visto in tante incarnazioni, mi dicono che Flash di base dovrebbe riuscire a viaggiare sulla propria linea temporale nel passato e nel futuro, ma in teoria non dovrebbe attraversare le terre. Però, vabbè. Io questa cosa la mando giù perché appunto non sono così accanito a livello fumettistico di Flash, ma più a livello televisivo dalla serie degli anni 90, quindi la mando giù questa cosa che lui, essendo anche una mente brillante, si organizzi sulla frequenza di vibrazione di questo monile per trovare la terra corrispondente e finirci. Nel momento in cui lui finisce nella terra di Zagor, scopriamo cosa è successo. E devo dire che se l'inizio di questo fumetto l'ho letto con un po' di fatica, nel senso che il concept medesimo mi faceva storcere il naso, oltre al fatto che in questo cartonato è compreso anche il numero 0, che io avevo già letto, perché il numero 0 era quello famoso che avevano fatto uscire prima in fumetteria con la doppia copertina, poi hanno fatto uscire un mese dopo in edicola. E qua me lo sono ritrovato ancora a leggere per una terza volta. Va bene, l'ho riletto, perché ovviamente ho voluto fare un ripassino. Quindi quella parte, non lo so, soprattutto la parte di Zagor mi è abbastanza noiosetta. Fortunatamente ci pensano i disegni magnifici in stile americano che magari i lettori di Zagor non apprezzeranno, perché ormai l'unica spiegazione che mi sono dato per la quale la Bonelli non fa queste tavole magnifiche e perché probabilmente i lettori di Zagor verrebbero destabilizzati troppo. Però ecco, forse sono l'unica cosa che potrebbero invogliare i nuovi lettori a comprare un fumetto Bonelli, perché ecco, questa griglia assolutamente supereroistica è una tra le cose migliori che può avere Zagor da questo fumetto, da questo crossover. Il numero di presentazione per i due eroi ci mostrano un po' i vari rogue di Flash che se avete seguito Flash con il telefilm della CW potreste già conoscere. Qua le vedete nella loro incarnazione originale fumettistica e la stessa cosa fanno con i nemici di Zagor. E questo mi ha dato modo anche di scoprire un po' che appunto Zagor ha una rogue gallery non indifferente, però ecco, sono comunque davvero all'occhio mio tutti villain molto, non lo so, molto assurdi nel loro design, però ci sta, alla fine si parla di un'ambientazione diversa da quella supereroistica. Vedo che anche Zagor ha il classico stereotipo che hanno tutti gli eroi Bonelli, Dylan a Graucio, Martin Mister ha Java e Zagor ha Chico e sono tutti stereotipi di assistenti comic relief inutili. Chico è proprio anche lo stereotipo dell'uomo corpulento che mangia sempre, che pensa sempre al cibo. Devo dire che la sopportazione di questo personaggio, il personaggio di Chico, mi è stata, come si dice, ho avuto un aiuto a sopportare questo personaggio perché guardo Brooklyn Nine-Nine e ho imparato con le stagioni ad apprezzare i personaggi di Hitchcock e Skelly che sono davvero i classici comic relief talmente inutili da farti arrabbiare, però dopo un po' ci fa il callo e vedi che hanno una loro utilità piccolissima. Ecco, Chico l'ho visto un po' come gli Hitchcock e Skelly di Zagor e quindi va bene, ci sta. Per quanto riguarda il motivo per cui tutto ciò è nato a livello narrativo è più o meno lo stesso motivo per cui abbiamo parlato nello scorso crossover. Vi ricordate che lo scorso crossover sulle tartarughe ninja ho detto è un dannato amalgam, ci sono, c'è Krang che rapisce Batman e le tartarughe ninja perché vuole prenderle loro, appunto, usiamo il termine vibrazioni per, usiamo il termine frequenze per tenerci sulla stessa linea. Vuole carpire dalle loro frequenze di vibrazione il modo per poter creare una nuova terra, una terra amalgam dove appunto lui può essere un genio incontrastato. Solo che nel crossover di Batman e tartarughe ninja 3 questa cosa la vediamo già avvenuta, quindi noi siamo già nel mondo amalgam e poi andiamo a ricostruire i vari tasselli che ci hanno portato a questa costruzione e qua invece vediamo proprio a livello di fabola vediamo i due villain di questo numero che vogliono fare la stessa cosa. Due villain che sono stati sempre sconfitti da Zagor e da Flash vogliono creare grazie alla forza della velocità che possono avere avendo attirato Flash nel mondo di Zagor vogliono creare con la forza della velocità un nuovo mondo, un nuovo universo dove Flash non esiste e dove loro due possano regnare incontrastati. Quindi è esattamente lo stesso spunto narrativo di Batman e tartarughe ninja 3 però devo dire che qua è fatto meglio. Cioè, per il mio gusto personale io apprezzo di più un lavoro dove si tenta di fare questa cosa e noi seguiamo l'intreccio narrativo logico quindi non a ritroso in cui abbiamo i nostri eroi preferiti invece in tartarughe ninja questa cosa era già stata fatta e andava decostruita ma chi l'avrebbe decostruita dei personaggi amalgamati che per cui io non provavo nessuna empatia nessuna emozione. Devo dire che anche la scelta di mettere come villain non un velocista è una cosa che ho apprezzato particolarmente perché anche qua è molto banale per Flash dargli dei nemici velocisti o quantomeno è banale darglieli sempre per quanto è vero che sul piano fisico se non sono velocisti o che hanno potere equivalenti è difficile che Flash non riesca a batterli è anche bello vedere che a volte è l'intelletto l'arma peggiore contro qualcuno e qua ci sono due nemici che usano l'intelletto l'intelligenza per contrastare Flash e per contrastare Zagor per quanto riguarda Flash il villain è Gorilla Grodd e per quanto riguarda Zagor il nemico è Hellingen o Hellingen non so come si pronuncia scrivetemelo voi qua nei commenti sono due menti brillanti ma criminali che vogliono unire le loro forze ovviamente a totale tornaconto personale perché non negano fin dall'inizio di essere egoisti e volere tutta la gloria per loro e di come questa alleanza sia un'alleanza di comodo però mi piace anche che ci sia l'unità intellettuale per farglielo dire fin da subito loro appunto sono coloro che hanno ideato questo piano Gorilla Grodd stava sondando il multiverso con un macchinario strano e si è accorto che nella terra di Zagor c'è questa pietra che in un certo senso è collegata alla forza della velocità è la stessa pietra che ha dato i poteri a Thunderman un altro dei villain di Zagor mi piace che hanno usato questa cosa il fatto che ci sia un personaggio nel mondo di Zagor che può comandare i fulmini e l'abbiano abbiano in un certo senso modificato le proprie origini con le origini di C-Comics della forza della velocità quindi questa pietra vuole essere usata da Grodd e da Ellingen per riuscire a unire i due mondi ma serve tutta la forza della velocità possibile ed è per questo che hanno attirato Flash nel mondo di Zagor sterminando il villaggio di quel povero bambino che abbiamo visto nel prologo che abbiamo visto nel numero zero la potenza diciamo di costruttiva di Ellingen riesce a far sì di come si dice riesce a costruire questo enorme gorilla robotico steampunk che ricorda molto King Kong che è alimentato da questa pietra e che dovrebbe appunto riuscire poi a fondere le due realtà al punto che a un certo punto nel finale vediamo anche Zagor catapultato a Central City e cercano in tutti i modi di impedire che succeda l'unione delle due terre sempre con un escamotage per rallentare i due personaggi questi due villain riescono a riportare tutti i vari rogue di entrambi i personaggi e a farli scontrare questo mi ha ricordato molto anche qui il primo crossover stavolta tra Batman e Tartaruga Ninja dove con una scusa si va ad Arkham e si mutano tutti i i villain di Batman per farli scontrare con Batman e con le Tartaruga Ninja però anche qua l'ho visto un esperimento molto più riuscito in un certo senso molto meno forzato se mi passate il termine un crossover che va sicuramente eletto se siete italiani e amate Flash non potete non avere questo questa piccola chicca del fumetto questa cosa mi porterà da amante di Flash a leggere Zagor no perché ripeto purtroppo Zagor ha comunque un'ambientazione in stile western ha comunque una griglia molto classica che già io fatico a digerire in Dylan Dog è in bianco e nero che anche lì è un'altra cosa che già io fatico a digerire in Dylan Dog però appunto io sono un'eccezione c'è gente che riesce a divorare fumetti in modo molto più eclettico rispetto a me quindi lo spero proprio per la Bonelli lo spero proprio per la DC Comics uno che legge Zagor potrebbe prendere questo numero e apprezzarlo sì al punto di leggere anche un fumetto di Flash non lo so però potrebbe farlo anche se non credo che sia questo l'obiettivo anche perché penso che l'obiettivo sia più che altro far rifocalizzare i lettori italiani che leggono fumetti americani sui prodotti italici però ecco il problema qui non è che non li leggono perché sono italiani il problema è che non li leggono perché lo stile è passato scusatemi lettori di Zagor quindi sarà sarà difficile che uno che legga i comics vada a leggere Zagor se lo stile non è quello dei comics cioè questo volevo dire senza essere cattivo comunque esperimento riuscito sono molto in ansia in hype per il prossimo crossover che sarà sicuramente Nathan Never Justice League di cui abbiamo appena letto il numero zero e sicuramente Dylan Dog e Batman invece lo vedremo per ultimo ecco una nota non dico negativa però che io non mi aspettavo è che non pensavo che il numero uscisse in un cartonato da 24 euro pensavo che uscissero magari altri numeri in formato Bonellide e invece no non so se anche questa è stata una scelta per concludere questo crossover che a livello editoriale è stato disastroso perché è stato annunciato eoni fa la storia numero zero di Dylan Dog e poi è uscita la numero zero di Zagor la numero zero di Nathan Never è appena uscita ma poi non se n'è più fatto nulla non se n'è più parlato quindi magari il progetto iniziale era anche di fare delle uscite due tre uscite io sapevo che dovevano essere più storie sapevo che dovevano essere quattro o sei storie per quanto riguarda Dylan Dog però presumo sia una cosa che valga per tutti invece mi trovo un cartonato del genere quindi è come un vabbè dai chiudiamola qui facciamo il cartonato leviamoci dalle palle sto crossover cosa non non necessariamente bella dal punto di vista delle vendite perché se uno potrebbe andare in edicola ed essere incuriosito da un crossover in quattro in quattro sei capitoli da quattro euro quattro euro e cinquanta come il numero zero da edicola qua invece uno che vede ventiquattro euro ovviamente non è spinto a a comprarlo quindi non lo so la vedo la vedo molto dura da questo punto di vista comunque vabbè non ho ziccato neanche questa dal punto di vista editoriale vabbè polemiche a parte io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchina con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci ai prossimi video grazie per avermi seguito